E' stato definito come l'ultimo dei Caravaggeschi, ti ritrovi in questa definizione? Sì, mi ritrovo, sì, è chiaro, è abbastanza evidente, insomma il riferimento che faccio è sempre, come dire, legato ai pittori del Seicento in generale, e Caravaggio è il pittore del Seicento per Antonomasia, insomma, quindi ci riconosco appieno. Poi chi ha fatto questa recensione alle tue opere è stato Vittorio Sgarbi, che ti ha definito appunto come non solo l'ultimo dei Caravaggeschi, ma anche colui che sta rinnovando quelle figure, diciamo, bibliche, classiche, rivestendoli di contemporaneità. E noi ti abbiamo scoperto proprio grazie a lui, perché tu hai vinto un premio, adesso a gennaio 2017, per un quadro che appunto rappresenta Vittorio Sgarbi, che si chiama noi Vittorio Sgarbi. E hai vinto questo premio da eccellenti pittori, come miglior quadro dell'anno. E' molto interessante anche perché, soprattutto per noi di Art Temperature, che siamo interessati al fenomeno di social media e l'arte, perché rappresenta un po' una metafora di un cambiamento. Ci puoi raccontare qualcosa di questo quadro? Nel quadro ci sono due Vittorio Sgarbi. Uno che guarda l'altro. Il primo Vittorio Sgarbi visto più di schiena ha sotto il braccio giornali, libri, riviste, eccetera. Invece poi l'altro Vittorio Sgarbi inserito in un quadro, cioè che è un quadro praticamente, è il ritratto, c'è il Vittorio Sgarbi che guarda il cellulare. E quindi sono come dire due momenti diversi, due situazioni diverse, due persone diverse, quella legata a un mondo più antico, più classico e quella legata al mondo di oggi, fatto di tecnologia, quale è il cellulare. Infatti nel Vittorio Sgarbi ritratto la luce proviene proprio dal cellulare. E quindi è un po' una metafora poi in realtà di tutti noi che aggeggiamo con questi cellulari, con il computer, eccetera. È un Vittorio Sgarbi abbastanza chiuso su se stesso, perché quello al di fuori della cornice guarda quello dentro, quello dentro guarda sul cellulare. Ed è un po' anche così, se vuoi, una provocazione della chiusura a cui possono portare questi strumenti. Sembra quasi anche un gioco di specchi. È un gioco di specchi di uno nessuno centomila, insomma. Noi siamo, cioè sempre noi, ma in situazioni diverse che ci fanno diventare in qualche modo persone diverse, in funzione della situazione in cui ci si trova. Certo. Quindi in questo caso, tanto che per noi è particolarmente interessante il fatto che il digitale comunque sia anche fonte di ispirazione per l'arte. Quindi Vittorio Sgarbi che, se vogliamo, è estico, critico d'arte e lui che lui stesso è diventato una web star è un simbolo, un simbolo di questo cambiamento. Parlaci di altre tue opere. Per esempio, Giano Bifronte. Che cosa rappresenta questo quadro? Beh, guarda, stranamente il Giano Bifronte si può proprio legare a quello con Vittorio Sgarbi in parte. Come dicevo prima, ognuno di noi è fatto poi di tante sfaccette alture. Nel Giano Bifronte è proprio questo, è la doppiezza dell'uomo che mi piaceva affrontare. Il soggetto scelto intanto è un attore, recita teatro. E per me l'attore è in qualche modo il simbolo della doppiezza dell'uomo. È buono, cattivo, è intelligente, è stupido, non lo so, c'è tutti i binomi che si possono fare. Come in Sgarbi c'è uno Sgarbi più legato all'arte classica, uno Sgarbi più legato al mondo ipermoderno in qualche modo. Anche lì nel Giano quello che mi piaceva, e se uno va a vedere il quadro per bene, il Giano che si specchia ha una personalità leggermente più femminile ed è rappresentato proprio attraverso un trucco. Tutti i tuoi quadri sono molto realistici, e quindi in questo caso è stato comunque un attore. Sono sempre attori o sono persone comuniche? No, 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 è stato un attore ma il quadro è nato dopo aver scoperto che lui fa l'attore, che è questo amico. Quando mi ha detto sì faccio l'attore eccetera eccetera, mi è iniziato a partire l'idea di fare un quadro in quel modo lì. Invece la badante, che anche questo è un quadro diciamo emblematico, perché rappresenta un tema molto molto attuale. Quindi la persona più giovane che fa la badante è davvero una badante sudamericana, che accudiva una signora mamma di un mio amico. Sono davvero il ritratto della badante e della donna che viene accudita da questa badante. Io mi leggo spesso ai temi del Seicento, classici, evangelici, biblici eccetera. In quel caso lì no, mi è piaciuto scegliere un tema di oggi. La scena di genere, non più la scena mitologica o biblica di genere. A quel punto non vado più a legarmi alla scena del genere del Seicento, perché non ha senso. Non viviamo al lume di candela e peliamo le patate, cioè al buio. Ma abbiamo i cellulari, abbiamo un altro mondo, un'altra attualità. Certo, si stanno creando delle nuove scene di genere e questa forse può essere una di queste. In perfetto stile, meet the artist. Tre cose che ami e tre cose che non ami per nulla, che fanno parte del tuo mondo. La giustizia mi piace, l'ingiustizia è una cosa che mi fa veramente, ma veramente perdere, come dire, il controllo di me. Ok, quindi mi piacciono i cani, da morire e mi piace giocare. Senti, io sarei una di quelle persone che rischio di giocare tutta la giornata, se posso. Carte, perché no? Scacchi, perché no? Dama, mi può star bene, ma devo dire da tantissimi anni ho scoperto le console dei videogiochi, con la PlayStation, con l'Xbox, eccetera. Perché mi piacciono, l'ho detto, è giusto dire che non mi piace la politica e non mi piace il freddo, ecco. Senti, per concludere, mi piacerebbe lanciare questa idea digital, appunto, social, per un tuo futuro quadro, visto che tu prendi come soggetti le persone vere, qualora tu volessi o avessi bisogno di soggetti particolari e magari non riuscissi a trovarli facilmente, ci piacerebbe l'idea che tramite i social media tu possa come fare un appello, esatto, e trovare magari i personaggi che possano animare i tuoi quadri di genere, ma di genere contemporaneo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere un'idea? Potrebbe essere un'idea molto carina, sì, avrei in mente anche eventualmente un quadro, perché a questo punto approfitterei per trovare magari molti modelli a disposizione nello stesso momento, che non sempre è facile, quindi penso che tramite internet uno potrebbe approfittare e trovare più persone per realizzare i cinque sensi, quindi avere tantissime persone a disposizione, chi annusa, chi guarda, chi mangia e assapora, chi tocca, magari che ne so, intorno a una tavolata, una sorta di ultima scena pagana, insomma, possiamo dire così. Bellissimo, dai, noi di Al Temperato ci stiamo per un webcasting per i cinque sensi di Rocco Normanno. Va bene, va bene, allora utilizzerò la tela gigantesca perché mi piacerà rappresentare le figure abbastanza grandi e quindi ci vorrà molto tempo per farlo. Va bene, noi non abbiamo fretta. Grazie mille. Figurati, grazie a te Sara, è stato un piacere. Anche per me, ciao!